Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Susanna Atamar, una scrittrice italiana, autrice di romanzi di grande successo da cui sono stati tratti anche dei film, non è cattolica e ha preso talvolta posizioni che divergono o contraddicono la morale cattolica. Ma più di una volta è riuscita a rompere il conformismo dilagante con interventi che mostrano una forte sensibilità verso la dimensione trascendente della vita. La pandemia in corso è stata per lei occasione di un articolo su Il Corriere della Sera del 7 febbraio di cui vorrei citare alcuni passi. Scrive Susanna Atamaro Siamo schiacciati dal nostro destino, non riusciamo a vedere nessuna luce di speranza all'orizzonte. In fondo non siamo molto diversi da Atalante, costretto a portare sulle spalle il cosmo. Mentre lui guardava a terra, noi nella stessa posizione scrutiamo ossessivamente i nostri apparecchi elettronici cercando una qualche forma di sollievo all'invisibile peso che ci curva la schiena. Qual è il peso che opprime con sempre più sottile potenza la nostra vita di sapiens moderni? È la mancanza di una dimensione trascendente. Siamo figli del caso e schiavi del tempo e questa condizione ci costringe ad assumere sulle nostre spalle tutto il peso del mondo. Aggiunge la scrittrice In questi anni ho viaggiato molto per l'Italia e molte volte nell'imbattermi nella pletora di orribili chiese moderne edificate nel dopoguerra mi è capitato di domandarmi sarebbe mai possibile che qualcuno si convertisse qui dentro o perlomeno che venisse sfiorato dall'idea che dietro il mondo materiale ne esista un altro la cui concretezza si manifesta nel mistero della bellezza Chi ha deciso, progettato e finanziato questi abomini architettonici? Si è mai domandato se avesse voluto sposarsi, assistere a un battesimo o celebrare il funerale di una persona cara in un luogo del genere? L'orrore che provo non è però un orrore intellettuale ma un orrore che ferisce direttamente il cuore perché il brutto, il disarmonico e lo sgradevole sono la negazione stessa del trascendente E così continua Una decina di anni fa, tormentata da questo rovello ho chiesto a un importante cardinale con il quale mi trovavo a cena quali fossero le ragioni di questa abominevole deriva che in un paese come il nostro fa particolarmente male data l'enorme quantità, dalle pievi alle cappelle alle cattedrali di meravigliose chiese edificate nel corso della storia Si è trattato, mi spiegò, di una tendenza nata negli anni Sessanta con il boom economico con l'edificazione di nuovi quartieri Si era pensato che, dato che l'uomo moderno passava il suo tempo tra fabbriche, garage, brutti edifici tirati su in fretta e furia bisognava creare delle chiese che fossero simili al mondo che li circondava in modo che si potessero sentire a casa senza considerare che questi luoghi non avrebbero potuto suscitare altro che un progressivo allontanamento dalle realtà che si presentavano complementari all'orizzontalità del mondo Va detto però che questa tendenza, quella di cui parla lo sconosciuto cardinale è una conseguenza della cosiddetta apertura al mondo del cosiddetto aggiornamento introdotto nella Chiesa dal Concilio Vaticano II e se non si dice questo, non si va alla radice del problema Susanna Tamaro afferma poi di aver letto con gioia e sollievo un recente saggio di Cristiano Sacia Fornaciari dal titolo Disegnare il Sacro pubblicato dalle edizioni Lindau in cui l'autore rivendica il ruolo della luce nello spazio liturgico cristiano Fino al XX secolo, ricorda l'autore di Disegnare il Sacro ogni epoca ha avuto un'architettura adeguata al suo stile musicale e alla sua teologia L'architettura romanica e il gregoriano si riflettono l'una nell'altro e mentre il canto sale favorito dagli archi a tutto sesto e le grandi absidi semicircolari le fonti di luce naturale illuminano i luoghi della proclamazione della parola tutto nella cattedrale gotica è volto al totale coinvolgimento emotivo dei fedeli E ora si chiede Susanna Tamaro a quale dimensione ci conduce la musica di queste chiese moderne a quella dello scoramento voci per lo più incolte che cantano seppur con fervore come se partecipassero a una scampagnata vivaci orchestrine giovanili con tanto di chitarra e batteria che si spengono subito dopo senza lasciare traccia nell'animo di chi ha assistito alla funzione se non forse una forma di epidermica allegria La dimensione della fraternità è sicuramente importante ma quando quella trascendente si lega unicamente a questo alla prima crisi al primo impatto con l'asperità della vita la fede che si credeva di possedere si dissolve come neve al sole La solitudine in cui ci troviamo a vivere continua Susanna Tamaro è la solitudine dell'abbandono del sacro perché paradossalmente la fede nell'incarnazione non è più in grado di accompagnarci in una dimensione che ci apra all'interrogazione e che ci spinga a trovare delle risposte all'inquietitudine che ontologicamente ci appartiene Frastornati dalle immagini sballottati in un mondo che ignora le ragioni profonde dell'esistere tanto più in un momento grave come questo com'è possibile riconquistare la stabilità profonda che ci giunge dalla contemplazione del mistero e continua sempre la Tamaro i cubici e comostri le astronavi le vele cementizie i campanili siderurgici che come un malefico cancro ormai popolano il nostro paese umiliando con la loro aggressiva bruttezza non solo i credenti ma chiunque vi passi anche a casualmente accanto ci parlano della cecità spirituale dei progettisti e dell'ancor più grave cecità dei committenti è la natura con le sue forme armoniose a suscitare in noi lo stupore che ci porta alle soglie del sacro e la natura non contempla mai la rigità geometrica che ci viene riproposta in questi moderni manufatti se geometria c'è se matematica c'è e ce n'è molta in natura è sempre sotto il segno dell'armonia nel suo articolo Susanna Tamaro cita anche un episodio della vita di Edith Stein che da filosofa atea entrò per caso in una piccola chiesa e venne folgorata dalla visione di un'anziana donna che pregava in solitudine con la borsa della spesa accanto lì, scrive, la Tamaro la Stein intravide un invisibile confine il confine del fanum, del luogo sacro un luogo sospeso nel tempo dove era possibile raccogliersi in un qualsiasi giorno feriale ed entrare in un intimo dialogo con l'Eterno fu l'inizio della sua conversione la conversione di Santa Edith Stein ricorda, aggiungo io quella dello scrittore francese Paul Claudel studente incredulo che vagando per le strade di Parigi la sera di Natale del 1886 entrò nella cattedrale di Notre Dame mentre il coro stava cantando il Magnificat in quel momento, ricorda capitò l'evento che domina tutta la mia vita in un istante il mio cuore fu toccato e io credetti credetti con una forza di adesione così grande con un tale innalzamento di tutto il mio essere con una convinzione così potente in una certezza che non lasciava posto a nessuna specie di dubbio che dopo di allora nessun ragionamento nessuna circostanza della mia vita agitata hanno potuto scuotere la mia fede né toccarla Paul Claudel comprese quella sera in un lampo con invincibile evidenza che la vita di ognuno di noi si spalanca davanti ad una inesorabile alternativa l'amore infinito di Dio o la dannazione eterna egli ricorda era a me Paul che Dio si rivolgeva e mi prometteva il suo amore ma nello stesso tempo se non lo seguivo mi lasciava la dannazione come unica alternativa a non avevo bisogno che mi spiegasse che cosa era l'inferno vi avevo trascorso la mia stagione quelle poche ore mi erano bastate per farmi capire che l'inferno è dovunque non c'è Cristo che me ne importava del resto del mondo davanti a quest'essere nuovo e prodigioso che mi si era svelato parole che nessuno più pronuncia la conversione a Cristo o la dannazione eterna ciò vale per la vita degli uomini ma anche per quella della società e se l'armonia delle cattedrali antiche prefigura la bellezza del paradiso l'orrore delle chiese moderne ci fa intravedere il gelo e la tristezza infinita dell'inferno oggi c'è RadioRomalibera.org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org www.radioromalibera.org